Ultimo sforzo prima dei play-off scudetto per la Gassese Blue Energy Volley Piacenza. La squadra di coach Bernardi concluderà la regular season domani pomeriggio, quando le ore 18 sarà impegnata sul campo della Tonno Calipo Vibo Valencia. Ci sono ormai pochi conti da fare, i biancorossi sono attualmente al sesto posto della Superlega con tre punti di vantaggio su Monza, e per confermare matematicamente la posizione senza guardare i risultati dei rivali, avranno bisogno di conquistare almeno un punto. Di fronte ci sarà però una Vibo con il coltello tra i denti, al penultimo posto è bisognosa di una vittoria per la salvezza diretta. Buon momento di forma per i ragazzi di Bernardi, che dovrebbe confermare il suo sestetto tipo con brisare in cabina di regia, lagunzi opposto, recine a rasse e schiacciatori, oltre caneschi centrali e con scanferla libero.